Il Bello e il Cattivo Tempo, siamo al Teatro dell'Orologio dove sta per debuttare proprio a momenti liberi tutti l'ennesima fatica di Elda Alvigini, una cara amica del Bello e il Cattivo Tempo Mo' è ennesima, è la seconda, sono cagionevole però è la seconda Elda, è l'ennesima fatica Sì, questo è stato molto faticoso e speriamo di... Come speriamo? No, sì speriamo perché tu lo sai, prima di andare in scena, prima della prima non funziona niente Tu sei una sicurezza, sei come quei pneumatici che fanno inverno, estate e tutto quanto con le macchine L'unica certezza è che ho degli attori straordinari che hanno sopportato me, hanno sopportato qualsiasi difficoltà e quindi io conto su di voi ragazzi Ce li presenti al volo? Assolutamente sì, Valerio Di Benedetto, Johnny Cicagua, Mario Svizzau Sono non solo dei professionisti incredibili ma hanno veramente delle qualità umane che raramente ho incontrato poi tutti, tutti belli, bravi, buoni, questa è la più grande fortuna che ho avuto, quindi conto su di voi, grazie Grazie moltissimo Manca pochissimo Cioè, devono entrare perché hanno fatto il biglietto e stanno fuori Infatti c'è una maria di gente che sta aspettando, quindi è segno che è una garanzia Lo spettacolo parla di separazioni E... volete tradurlo? Buon San Valentino! Volete tradurlo? Spiegagli un po' lo spettacolo un po' in giapponese, per favore, perché noi abbiamo un pubblico internazionale Sì, sì, questo è un pubblico internazionale, non è un pubblico internazionale, ma è un pubblico internazionale Sì, sì, questo è un pubblico internazionale, quindi è un pubblico internazionale Grazie Prego, anche Mario Svizzau vuole dire qualcosa? In questo spettacolo vorreste separarsi entri cari potenti essere fii, entri coupluri O separarsi delle idee politiche Ma hai molti livelli di separare Un rapporto tra due persone, entri un barbaccio e femmè E separare entri un ideale Quindi... Tra te hai mai molti separarli in generale Vabbè, ma non è giusto però, perché il rumeno, ho capito, con l'italiano un po' No, comunque... Io è romano se vuoi Esatto, puoi tradurre per favore al pubblico così proprio di Roma Centro, grazie E lo spettacolo parla di separazioni Da ogni punto di vista, da un punto di vista sentimentale e lavorativo di un ideale territoriale Quindi la prendiamo alla larga, ad ampio raggio Ma ammazza, tutto quello che hanno detto è proprio un sunto eccezionale Esatto Scritto a quattro mani insieme a... Natascia Di Vito Natascia Di Vito, regia di Eldal Vigini Liberi tutti, non potete non venire, mi raccomando Guarda quanto è bella Siamo belli tutti eh Io non lo so che faccia c'è a quest'ora Io sono di parte, io vifo per la squadra mia Qui c'è un quinto protagonista comunque Che era in giro qua Che in realtà in questo momento non si vede Non si vede perché è diciamo il colpo di scena dello spettacolo In scena con noi proprio perché va a sostituire dei momenti di drammaturgia veri e propri C'è Alessio Ancillai che è un artista che lavora sia su tela che con stoffa e led E ci ha anche regalato un'opera che è stata da poco esposta da Artissima Quindi dovete venire a vedere lo spettacolo Perché c'è anche un inedito di Roberta Carrese che ce l'ha dato proprio a noi Quindi per sentirlo dovete venire E che volete di più? Il bello e il cattivo tempo, noi vi aspettiamo eh Vi aspettiamo Grazie